c'è un mio amico che ha un 360 2 tempi 360 di cilindrata usquarn ehi la cazzo c'ho la gomma finita di che anno è la moto 93 ragazzi quanto viaggio non so neanche dove è la strada qua ragazzi un 360 2 tempi usquarna del 1993 diciamo che le vibrazioni fanno girare un po' la leva è un carro armato Diego Diego vieni dietro ragazzi fa paura va troppo guarda che scoda un botto mamma quanta compressione ha il tuo 300 niente ragazzi questo video termina qui anche perché non era in programma quindi ho preferito andare tranquillo e poi non c'è molto spazio per tirarla anche perché qui è un'area trial l'ho provata in un sentierino ma non volevo rischiare spero che vi sia piaciuto questo nuovo test ditemi cosa ne pensate nei commenti comunque ragazzi è un 360 di cilindrata due tempi che ha ben più di 20 anni ha 25 anni quella moto lì quindi cercate di capire ma nonostante ciò tira le braccia più della moto che avevo provato precedentemente voi potete andare a seguirmi su instagram vi lascio tutti i link in descrizione e ci vediamo al prossimo video ma quanto è bella